Esatto. Allora... Wow, Nuno. Sono così impaziente di giocarlo. Secondo me, nella skin robot, quando muore, dirà scusate, dovevo scolare la pasta. Se fanno una cosa del genere, io... cioè, non lo so, non lo so, non lo so davvero. Nuno Bot è l'unica skin che può essere giocata a ogni torneo italiano, se lo fa. Se lo fanno e se succede, è... trascendentale. Però, in dubito, che succederà, perché... Vabbè, vabbè. Allora, signore e signori, andiamo a vedere quelle che sono effettivamente le patch notes dell'8.16. Le analizziamo con l'incaro Karen. Eccoci qua. Benvenuti! Aspetta, alla fine è Talon, la skin che si ottiene a fine season. Lo vedo spammato in chat più volte. No, assolutamente no. No, ma mai e poi mai. No, ma soprattutto... Allora, sono stati già dichiarati in maniera molto esplicita i criteri per i quali si ottiene la skin vittoriosa e Talon ha ricevuto skin da poco, quindi no. No, ha ricevuto skin da poco e ha già delle skin sui mondiali. E quindi, cioè, skin eSports è skin legate ad eventi e quindi è altamente improbabile. C'è gente che chiede se io streammi e quindi finalmente posso rispondere di sì, che piacere. Quindi sì ragazzi, mi trovate anche sul mio canale se volete. Allora, non stasera, non stasera ovviamente, in separata sede. Allora... Dai, allora. Allora, intanto una cosa importante, c'è il test dell'Alpha di Blitzal Nexus. Blitzal Nexus è una nuova modalità di gioco. È stata pensata con l'idea di partite che sembrano League of Legends normale, ma sono il caos e durano 15 minuti. Blitzal Nexus. Sì, praticamente è una nuova modalità particolarmente interessante perché per adesso ci sarà semplicemente l'Alpha, ma poi diventerà una nuova modalità permanente per sostituire quella che era la vecchia Dominion con, secondo me, degli accorgimenti molto interessanti. Perché praticamente diventerà la modalità da Alpha test della Riot. Sì, l'idea dovrebbe essere questa. Nel senso che la Riot vuole vedere se piace abbastanza la gente e lo tengono come fissa. Esatto. Quindi vedremo. E non solo. La utilizzeranno per testare tutti i nuovi oggetti. Allora, allora, andiamo a vedere quella che sono i rework. Cioè, rework. I buff e i nerf, campioni Aatrox, scatto dell'ombra, guarigione passiva contro i non campioni che scende dal 33 al 15%. E le cariche all'apprendimento dell'abilità, cioè quando ottieni il livello 1 dell'abilità sono una singola carica e non due. Non solo, lo stermitore dei mondi ha 20 secondi di cooldown in più nel primo livello, 10 in più nel secondo livello e uguale al terzo livello. Hanno massacrato l'all-in al livello 2 di Aatrox. Prima Aatrox aveva un livello 2 davvero efficace e invece adesso il livello 2 di Aatrox è un livello, non dico morto, ma quasi. È davvero pesante come nerf. Davvero, davvero pesante. Perché rimaneva dominante in laning phase, continua ad essere complicato a giocare nelle fasi più avanzate di partita e infatti il competitivo viene ancora utilizzato o bannato. Ma in solo Q è più difficile a giocare bene e non so cosa gli succederà in solo Q, perché già in solo Q non era messo benissimo. Era già sceso a 46% di win rate, fai conto, in questa patch. Eh, sì. E infatti... Beh, vedremo, 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 vedremo. Fizz, rapporto danni a W diminuito, rapporto danni a R diminuito. Semplicemente lo scaling con il potere magico è stato diminuito. La cosa è semplice. Nella patch prima del cambiamento della W e della R si erano resi conto che Fizz faceva schifo al 90% delle persone e che non funzionava come Barst Assassin e nemmeno come campione che entrava e usciva dai fight. L'hanno baffato, la gente non si è resa conto di quanto fosse forte, l'hanno baffato ancora e adesso la gente si è resa conto che è sbroccato e viene giocato anche in competitivo. E quindi lo rimettono un attimo in riga. Era un attimo ora, direi, anche. Un attimo, eh. Quando Fizz arriva in competitivo vuol dire che o è disgustosamente sbroccato oppure che sono riusciti finalmente a bilanciarlo. Ma l'ultima volta che l'hanno bilanciato era un bruiser. Ma no, il fatto di Fizz è che attualmente non era bilanciato, è quello il problema. No, non lo era. I valori a P erano davvero troppo alti. Sì, il fatto che con il squaletto ottenevi già 0.9 di potere magico è colossale come scaling. No, rimane forte, è un nerf molto piccolo a confronto con quello che sono stati i suoi buff precedenti. Semplicemente è una via di mezzo tra la situazione precedente in cui era veramente brutto e la situazione attuale che era veramente forte. Sì. Ekarim, danni base aumentati della Q, 20 danni in più all'ultimo livello che è poco e niente. E uno scaling di .1 di attacco fisico in più. Sai che in realtà non lo definirei niente perché se consideri che è un'abilità particolarmente spammata da parte di Ekarim... Ok, da quel punto di vista sì. Non è una cosa da poco nell'ottica di ok hai oggetti, hai vantaggio, ma è di nuovo... Devi prendere vantaggio. Bene, contro chi puoi combattere in early mid game? Nessuno. Merda! Capisci? Quello è vero, per carità, però sai, questo potenzia un attimo il mid game di Ekarim e tanto basta perché vogliono andarci lenti con lui. Ekarim è un campione particolare. Scalando con la velocità di movimento, che è qualcosa di abbastanza tipico per un campione, se lo vai a sbroccare ti rompe il gioco e diventa o perma ban o letteralmente ti rompe il gioco. No, no, lo so, lo so. È che devono renderlo magari un pochino più tankoso, leggermente, un minimo, sarebbe anche carina come cosa. Orianna, resistenza magica a base diminuita da 30 a 26, è normale da quando hanno nerfato gli assassin, ancora una volta, cosa succede? Ha ripreso il controllo della corsia centrale in maniera assoluta. Vuoi controllare un altro mago? Prendi Orianna! Sempre! Il fatto è che Orianna stava diventando davvero un counterpick troppo opprimente verso altri pick della sua categoria e quindi... Letteralmente opprime tutti. Sì. Tutti. Non c'è un mago in corsia centrale che Orianna non riesca ad affrontare. Tranne Fitz. Fitz è l'unico che effettivamente riesce ad affrontarla e anche lui non è che abbia la vita facile. A causa della leaning phase. Il fatto che Orianna controlla le zone, ma vabbè, altro discorso. Queen, crescita d'attacco fisico diminuita da 3 a 2,4 e finalmente vorrei anche dire, quando arrivavi al livello 6, ottenevi cosa? 4 di attack damage in più? In late game sono 12 di attack damage in meno. Grazie, meno statistiche gratis a un campione che barsta gente a caso. Sapete, no, che non basta fare Queen? Non farà differenza. No, no, no. Non dico che non farà differenza? Perché Queen è un campione che ha sempre faticato a scalare e vai ad accentuare una sua parte... Vai ad accentuare un suo punto debole. Sì, ok. Però... Cioè, è più forte come nerf quello dell'Elettroshock che questo. Che poi nerf, tra tante virgolette, quello dell'Elettroshock, ma poi ci arriviamo. Poi ci arriviamo. Rakan, saluto di armatura diminuita. Grazie, finalmente, alleluia. È l'unica cosa che doveva nerfare. Perché, allora, Rakan è questo. Il suo scopo è uno. È quello di lanciarsi in mezzo e fare il knock-up. Bene. Perché è così... È tancoso tanto quanto altri campioni che sono... Tipo Leona o Brom... Non solo. Il problema è che non stava più neanche soffrendo lane che doveva soffrire. Già. Non è solo la tancosità che nei teamfight fa la differenza. Rakan, quello che vedete indebolito di base, è il suo stato a livello 1. Voi, per carità, comunque, può acquistare quello che vuole per controbilanciare. Però Rakan in corsia è molto più debole e quindi potete abusare di una lane che se... Allora, accettano il pattern, o abusate della lane di Rakan, o Rakan abuserà di voi in teamfight. Quindi dovete abusare ancora di più della lane di Rakan, perché se no vi trovate ad avere un campione ingestibile durante teamfight. Letteralmente. E per fortuna anche. Perché almeno c'è un punto di forza e un punto di debolezza. Rakan era quel campione piatto che era sempre accettabile come stato di forza in ogni fase della partita. Se è sempre accettabile vuol dire che è sbilanciato. Un campione deve avere un punto debole a livello di fase di gioco. Non può essere sempre forte. Non ha senso. È sbagliato. Puoi riuscire a mitigare quelle che sono le sue mancanze con la tua abilità personale. Ma non puoi essere forte sempre, di base, a prescindere. Esatto. Non esiste, per nulla. Talia. Velocità di base diminuita da 340 a 335, che è colossale per lei. Spinta sismica, il tempo di ricarica è stato aumentato di 4 secondi durante i primi livelli dell'abilità. E il muro non conferisce più visione, che questo è mirato totalmente al competitivo, però. Però sai, in realtà hanno veramente massacrato Talia in giungla con questi tre cambiamenti. Sì, la spinta sismica in primis. Sì, 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 davvero. Questo è un nerf grosso. Perché avevano provato a bilanciare Talia, si erano resi conto che non stavano riuscendo a bilanciarla con dei piccoli cambiamenti. E allora sono andati per il... Ammazziamola. E poi cerchiamo in caso di... Di ribaffarla lentamente. Sì. Con calma. Come hanno fatto anche con Zoe. Perché Zoe è scomparsa per due mesi e poi l'hanno ribaffata lentamente. Adesso la stanno rinerfando perché hanno capito come bilanciarla. Però a volte è necessario sacrificare un campione per qualche mese per poi riportarlo lentamente in gioco. Effetto Zoe, ragazzi. Effetto Zoe. Effetto Zoe, davvero. Una volta c'era l'Olaf, adesso c'è l'effetto Zoe. Allora, Trundle. Danni base della Q diminuita ai livelli più alti. E alleluia, perché aveva un danno base stupidamente alto. E potrei fare full tank e fregartene perché i danni li tiravi fuori ugualmente. Questo in realtà è un nerf al competitivo. In solo Q questo nerf non si sentirà neanche. Perché in competitivo Trundle si builda tank utility. Quindi si fa voto del cavaliere, convergenza di zecche e queste cose qui. In solo Q invece era obbligatorio fare l'Hidra Titanica perché serviva a poter portare a casa la partita da soli. Non si poteva fare affidamento sui compagni di squadra. Già. E quindi il fatto è che se tu buildi l'Hidra Titanica, la riduzione di danni con l'aumento dello scaling a D porta la solo Q a non sentire. Letteralmente in solo Q non ve ne renderete conto di questo nerf. In competitivo invece è una bella legnata. Perché significa che Trundle non può contemporaneamente essere opprimente e dare utility. Strano. Strano. Cose che la Riot vuole rimuovere nei Mamora Iconic 2. Trindamer. Riaumentano il cooldown della E. Si sono resi conto che si erano dimenticati di che cosa succedeva quando è un cooldown troppo basso la E di Trindamer. La gente torna a buildarlo a P e asfalta l'universo ma non brutalmente di più e l'hanno finalmente nerfato. Alleluia. Grazie. Gentilissimi. Vi vogliamo benissimo. Wukong. Molto gentili ragazzi. Molto gentili. Wukong. Colpo devastante. Riducono il danno di 20 e lo scaling con l'attacco fisico totale è semplicemente diminuito di punto 1. Ci sta? Era... Allora spiegiamo meglio. Wukong era in una situazione in cui è stato per più anni ignorato perché non lo giocava praticamente nessuno tranne i One Trick Pony. Non ha mai ricevuto buff tranne qualche piccola cavolata e finalmente la gente si è rese conto. Wow ragazzi nessuno ha nerfato Wukong in 5 anni e gli hanno dato solo un piccolo buff. È forte schifo. E davvero lo era. Ma soprattutto Wukong aveva una capacità di 100-0 solo con il kit di base appena prendeva un minimo di vantaggio che era imbarazzante. Serviva nel farne un pochettino i danni. Era letteralmente indispensabile. Meno male, meno male. Zoe, danni della passione diminuito da tutti i livelli, rapporto danni a W diminuito. Che non è di poco. Cioè vorrei sottolineare di quanto sono stati diminuiti i danni. Wow, del 20% ad ogni livello praticamente. Ma non solo, anche lo scaling con l'AP. Le hanno tolto un 1,25 e un 2,75 totale di scaling AP. Non è poco, anzi. No, meno male. Più che altro nella fase centrale i partitari hanno tolto molti danni. Tra il 7 e il 14 i danni sono un bel po' diminuiti. Cioè da 73 a livello 10 passa a 52. Andiamo ce ne conto. Sono tanti i danni o meno. Meno male. Serviva a Zoe era rottissima. Zoe era letteralmente rotta. Più che altro sai cosa? In herf a Zoe. Allora, Zoe ha questa identità di one shot da la distanza con la bolla e poi la Q. Per quale motivo tutto il resto delle sue abilità dovrebbero avere danno a gratis? Sì. Cioè se hai già danno su due abilità che concatenate riescono quasi a one shotare o a one shotare una persona, le altre abilità devono essere più deboli, devono essere basate sul dare utilità, non al renderti ancora più opprimente. No, era sbagliatissimo. Giustamente direi anche. Tank! Il buffo da Mumu secondo me è davvero grosso, grosso, grosso. Riduzione dei danni bonus, 3% di armatura bonus più 3% di resistenza magica. Come funziona? La colora di Mumu ha questa meccanica semplice. Di base riduce tutti i danni che subisce di 2, 4, 6, 8, 10, dipendentemente dal livello della E. Ottimo! Con il fatto che ha uno scaling con l'armatura bonus e la resistenza magica, questa cosa è maledettamente opprimente contro gli AD Carry. Sì. Ma non solo. Se pensi a quanti campioni sono dipendenti da attacchi base nel meta attuale, prendi Camille, prendi lo stesso Trundle, prendi Kennen nella sua versione AD, prendi qualsiasi cosa e tu comunque hai un buffo da Mumu che lo rende non un buon campione in generale, ma un buon campione per questo meta. Ci sta, è giusto così. Che, ragazzi, parentesi su Mumu. Mumu verrà reworkato prima o poi. Questo è uno di quei buff che semplicemente porta Mumu ad essere un po' più forte nell'attesa di reworkarlo. Un po' come il buff che aveva subito Aatrox pre-rework, che l'aveva fatto tornare in meta, pre-rework. Quello era un buff per dire, ragazzi, rendiamolo giocabile, ma comunque verrà reworkato. Comunque ringrazio intanto Isroxas per il sub, bella bro e bentornato. Ringrazio entrambi in verità perché era l'evento a Roma. Oh, grazie. E ha apprezzato il lavoro di entrambi, quindi apprezziamo. È un piacere. Leona, ricarica a W di minuti ai livelli più alti e però vengo interrotto da un altro sub. Dusty Buster, benvenuto alla famiglia di sub, bro. Grazie mille, mate. Guitilissimo. Leona, tempo di ricarica ridotto da 14 secondi fissi a 14 che scendono fino a 10. È una delle cose che io considero più sbagliate. Non sbagliate, nel senso di è mostruosamente pericoloso come buff. Anche perché se ricordi, semplicemente Leona comunque si buffa per prima la W, quindi poco importa, comunque tu vai su Leona. Non lo so, davvero. Già Leona stava quasi tornando in meta. Questo è quel piccolo buff da stiamo vedendo che stai tornando in meta, ti vogliamo in meta e quindi ti diamo una piccola spintarella. È alla faccia della spintarella. È una bella spintarella. In late game vuol dire che hai tipo delle finestre di tempo da tipo 3-4 secondi massimo in cui sei più fragile. Anche meno se prendi abbastanza cooldown ed action. Sì. È così pericoloso se Leona prende vantaggio ora. Però è buono perché è da tanto che non la si vede efficace e d'impatto. Ci sta, è giusto così. Questo invece di Nautilus è uno dei buff più intelligenti che abbiamo mai visto ed ha la stessa logica di quello degli AD Carry della scorsa patch. Il dare la possibilità di fare meglio il proprio lavoro prima, sei leggermente più debole, ma puoi fare più spesso il tuo lavoro correttamente. È più o meno lo stesso cambiamento che è stato fatto poi a tutte le rune offensive che andremo a vedere più avanti. È quello che la Riot vuole incentivare perché è il modo corretto di incentivare la capacità di giocare bene. Vi spiego meglio. Se c'è un'abilità che è troppo forte, non importa se chi sa giocare il campione sappia effettivamente giocare o meno. Semplicemente vi basta premere il tasto corrispondente e avete il massimo dell'efficacia da parte di quell'abilità. Invece ridurre i valori grezzi e diminuire i cooldown significa che la dipendenza dall'abilità dell'utilizzatore, del campione, aumenta. Semplicemente perché dovete essere in grado di utilizzare le cose a cooldown e quindi mettervi in condizione di farlo, che vi assicuro non è sempre semplice. specialmente con supporti da utilità corpo a corpo. E quindi questo è quanto si va per imparate a giocare. Pensate un po', ragazzi, la Riot vuole che impariate a giocare. Lo so, folle, davvero davvero folle. Il motivo è semplice. Come ha detto Roberto, ti dura magari di meno lo scudo, è leggermente più forte di base, scala leggermente peggio. Ma il fatto che puoi gestire meglio i tempi di ricarica vuol dire che puoi imparare meglio, puoi imparare meglio, a giocare meglio il campione. Sì. Tutto qua. Tra l'altro vorrei sottolineare una cosa, totalmente off topic. La Riot ha ufficialmente dichiarato che con il nuovo Nunu hanno cercato di dare ad un campione la più triste animazione da morte della storia di League of Legends. E ci sono riusciti? Eh, direi di sì. Per chi non l'ha vista come funziona, letteralmente c'è Nunu, c'è Willam che muore e Nunu che gli sta sopra ed è tristissimo. Sì, tipo Releone, un po' come Dragon Train e Tristana, però è triste da morire. La Riot l'ha fatto apposta. Sono cattivissimi. Davvero. Rammus, posizione difensiva Riccio. Un buff allo scaling con l'armatura e resistenza magica bonus, nel senso che ottiene un pochino più armatura e poco più di resistenza magica. Ci sta. Carino. Ci sta alla fine semplicemente quella piccola spintarella in più. Anche sì, ho lo stesso discorso. Questo però non è piccolo come buff. No, è enorme. Perché, vabbè, nel mio caso che io ho messo tutti i minion cannone, no, assolutamente. Però è un aumento di salute da W aumentato. Salute massimo a tenuto ai nemici passa da 3 a 4, quindi ogni minion all'astitato sono 1 HP in più, che non è poco. Vuol dire che in 10 minuti passate dall'avere 300 HP a averne 400 in più. Sono 100 HP in più. Se non consideri 5 in più per ogni minion cannone, quindi è così pericoloso questo buff. Ragazzi, un Sion bravo si troverà a livello 10 con tipo 120 HP in più di prima. È una roba sbagliata, molto, molto, molto sbagliata. In late game diventa anche di più, è questa la cosa. Avrai tipo dei Sion che camminano con 5-6000 HP senza problemi. Oppure vanno con 3000 HP in giro, ma tipo 400 di armatura e resistenza magica. Boh, davvero io... Cioè, incentimi una build più basata sulle resistenze grezze che sulla vita grezza. Che è sempre quello che hanno voluto fare, come si chiama, Karen su Twitch. Karen. Letteralmente Karen. Semplicemente quello. Ah, sì. E quello che hanno sempre voluto fare su Sion. Sì. E quindi... Ci sta. E più che altro la cosa è questa. È il fatto che il Grasp of the Undying si somma a tutto ciò. È la crescita selvaggia. Non di Lulu, ma quella della runa. Sì. Ma quello almeno lo faceva già prima, capisci? Questo è un buff grosso. Va a buffare uno già dei punti forti di Sion. A me piace particolarmente. Io ogni volta guardo che c'è un sacco di gente che letteralmente continua a dire Eh, Thumbtop è tornato, Thumbtop... Ragazzi, letteralmente... No, ragazzi. No. Non è cambiato letteralmente nulla per Thumbcanstop. Mi spiego meglio. Anzi. Anzi. Allora, è carino per la Q per quanto riguarda il fatto che dura meno il rallentamento ma un secondo meno di ricarica. Quella è tanta roba per Thumbcanstop. Effettivamente. Cioè, è ironico. Se posso essere sincero, no. Perché... Allora, fondamentalmente il cambiamento del pattern di attivazione della Q, meno slow e meno ricarica, lo va a favorire come supporto e almeno come supporto ti va a compensare quello che è il massacro che hanno fatto sulla sua abilità principale. Sì. E... Che, allora, andiamo a vedere il divorare e il gurgitare. La durata del divorare è fissa 4 secondi, quindi non puoi proteggere un alleato fino a 6 secondi, ma solo 4 secondi al massimo, che è abbastanza... Eh? Durata del sul campione nemico. Cosa significa? Che quando tu ingoi un nemico, divori un nemico, dura la metà del tempo. E fin qua. Vabbè. È sempre stato così. Il tempo di ricarica è stato moltiplicato per due, escludendo l'ultimo livello, che sono ok, sono 6 secondi in più, e ci... Oh, wow, scende a 8 secondi. E... Se tu divori un avversario, si dimezza il lancio sul nemico. Benissimo. Sì, che significa che all'ultimo livello avrete, divorando un avversario, due secondi in meno. Wow. Non fa letteralmente differenza. È uguale a prima. L'idea di un catch top dovrebbe essere appunto il fatto di... Oh, magari adesso che devo divorare solo gli avversari, posso giocarlo top. No, ragazzi. Avevano fatto un cambiamento che portava a pensare di poterlo giocare top, perché di manco a tutto questo avevano aumentato anche i danni del divorare. E quello era interessante. Quello avrebbe riportato Damcatch top. Così... Non penso. Così niente. Proprio vuoto, assoluto. Rip. Ciao Damcatch, non mi mancherei per nulla. No, infatti. Divertente interattivo, com'era? Divertente interattivo, sì. Counterplay, una tonnellata di counterplay. Qua le rune, semplicemente si sono resi conto in Riot che ormai era così facile one-shotare un bersaglio che... che gusto c'è a giocare un carry, che sia squishy, che sia mid-laner o bot lane, se letteralmente esistono campioni come Rengar che prende un grammo di vantaggio e ti asfalta costantemente? Non è solo quello. È che la Riot si sta muovendo in una direzione dove si sono finalmente resi conto che nel gioco attualmente ci sono troppi danni. Davvero troppi, troppi danni. Sì. E quindi ne stanno rimuovendo un po'. Per la maggior parte, allora, andiamo uno alla volta. Perché aeri, nerfati danni e aumentato lo scudo, vuol dire che ne viene incentivato l'utilizzo nei supporti piuttosto che nei mid-laner o nei top-laner come Runa da Arras. Tra l'altro, a livello 1, ritogliere 5 danni su 15 totali è enorme come nerf. Non è male. Non è per niente male. Io sono contento perché almeno è più mirato ai support adesso questa come Runa e non ai top-laner tipo Gnar o tipo Rihanna. Era una delle cose che più mi stupiva. Tipo, oh, guarda, la mid-lane è aeridipendente in maniera colossale. Comunque, alla fine sarà un nerf ad aeri da solo laner. Comunque sarà discreta nei trade da supporto perché scudando di più comunque il trade lo chiudi più o meno alla pari. E niente. Andiamo avanti. Eletroshock. Eletroshock. Danni in base ai diminuiti che sono stati diminuiti di 20 al primo livello e di 40 al livello 18. Lo scaling con l'attacco fisico bonus è stato diminuito di .15 che è comunque un nerf del 20-25% su questo scaling. Un nerf del .05% sullo scaling col potere magico, quindi si parla di 16% scarso. E hanno dimezzato il tempo di ricarica! Ehi, ehi, ragazzi! Non ditelo a nessuno! Ma ehi, è un buff! Non ha nerfato questo! Questo è effettivamente un buff, ragazzi. Che suona folle perché dite, eh, ma com'è possibile sia un buff? Perché puoi proccarlo due volte nell'arco di 50 secondi, ma devi avere le mani per farlo. E questo è il punto. Letteralmente hanno messo meno danni base, hanno diminuito di metà, non di poco, di metà il tempo di ricarica. Cioè, significa che... Allora, prima, ragazzi, a livello 1, ogni 50 secondi facevate 50 danni più 0,5 AD o 0,3 AP. Bene. Adesso fate ogni 50 secondi 60 danni più 0,8 AD o 0,5 AP. Sui 50 secondi sono stati aumentati i danni, ma dovete saperlo fare. Perché l'esecuzione, utilizzare l'Eletroshock a cooldown, non è semplicissimo. Letteralmente, però per chi è bravo, per chi... i giocatori più bravi sapranno utilizzare meglio questa nuova runa. È questo il punto. È proprio questo il punto. Tanta roba. Tanta roba. Davvero. Comunque, come sottolineano, effettivamente è un nerf all'Eletroshock in giungla. È un buff all'Eletroshock in corsia. Ah beh, chiaro, sì, quello assolutamente. È più per i mid laner, per i top laner aggressivi, non per... Magari anche support o AD Carry Botlin aggressivi, ma dubito che lo utilizzeranno l'Eletroshock, sinceramente. Dei support effettivamente potrebbero. Alcuni sì, ma sono pochi rimasti quelli aggressivi. Sì, per carità. Un brand, una Zyra, un Pyke magari è più invogliato adesso, ma ci sono così tante rune migliori per lui e per altri, capisci? Cometa su di loro, a prescindere. Bard. Lulz. Vabbè, no. Comunque, Bard sì, Bard e Electroshock sì, cioè, su di lui si usa l'Eletroshock e su di lui è molto facile da broccare. Il buff all'Eletroshock potrebbe dare una spintarella a Bard in più. È viva, è viva. Serve altro, però per lui è un bel buff. Celerità, come se la velocità di movimento è statistica adattiva diminuita. Molto semplicemente, la celerità, più ottenevi movement speed e maggiore era attack damage e potere magico che ottenevi. Sincero, ormai tutti i jungler giocavano con la mid laner, top laner. C'era una marea di campioni che giocava con la celerità e con il waterwalking e quindi grazie per favore, basta. Non è solo quello, ultimamente a livello di rune si stava sviluppando, diciamo, una tendenza poco sana a livello di meta perché stava letteralmente monopolizzando il meta come combinazione ed era pozione della corruzione iniziale con celerità e tonico temporale che durante la pozione della corruzione ti dà il 5% di move speed in più che sinergizza con la celerità e ti dà statistiche adattive bonus che associate ai danni da ustion della pozione della corruzione portava i laner a non poter più perdere una lane perché avevano da un solo oggetto con un solo setup di rune che poteva tranquillamente essere secondario, riuscire a trovare sustain dall'oggetto, più sustain dalla runa ma contemporaneamente anche più potere di trade. E quindi non aveva senso, questo nerf significa che adesso anche in questo setup la celerità non va a sbroccare i valori e quindi povera celerità. Come già detto per Ekarim, i campioni che scalano con statistiche non da combattimento hanno solo due stati, inutile o sbroccato. Letteralmente. Colpo basso, danni in base diminuito i livelli più bassi, molto semplicemente vogliono renderlo meno di impatto in early game, perché in early game quei 15 danni che sono a livello 1 15 danni, poi scalano fino a diventare 20, due a livello 3 e così via. Il punto è quello, erano troppi danni gratuiti da mettere su un'abilità in early game. In early game ci può stare che contribuisca tanto al danno, non in early. No, confermo. Troppo, 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 troppo forte. Impatto improvviso dei tali tipi di attrazione magica diminuite. Io non sono un grande fanatico di questo nerf. È sempre la questione ramo della dominazione, ok? Devi considerare che questi due li devi contestualizzare nell'aumento del danno in corsia dell'Eletroshock. Ok. E quindi su campioni ipermobili che, ehi, è proprio la categoria di campioni che sta dominando il meta in questo momento. Ottimo. Serviva nel fare queste due. Serviva nel farle. Va bene. Metti uno scaling a questo punto. Eh, no, perché a quel punto lo rendi sbroccato sui campioni da iperscaling e li fai scalare ancora meglio. No. No, 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 no. Hai ragione. No, 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 hai ragione. Da quel punto di vista hai effettivamente ragione. Scalerebbero mostruosamente bene. Sono rune, non sono oggetti. Quindi è giusto che facciano un lavoro da runa. Va bene, va bene. Non deve essere un lavoro totalizzante sul meta. Giusto anche quello. Praticamente il bruciare è l'Eletroshock. Stesso identico discorso. Smezzano il danno, ma smizzano il tempo di ricarica. Di nuovo, un buff per i laner. No, in realtà in questo caso è semplicemente un nerf a chi lo gioca male. Perché l'Eletroshock, se lo sfrutti a cooldown, fai più danni di prima. Adesso se lo sfrutti a cooldown, fai gli stessi danni di prima. Va bene. Il discorso è, chi è bravo sa usarlo uguale a prima. Non è cambiato nulla. Zero. Sì, esatto. Esatto, esatto. L'ho chiamato buff perché il discorso era simile a quello dell'Eletroshock. Ma l'Eletroshock è leggermente più forte. No, ma l'Eletroshock appunto a cooldown è stato buffato. Questo qui è semplicemente un nerf al pattern di utilizzo della runa in questione. Nerf a guarigione annullato. Era doveroso, letteralmente non esisteva più come incantessimo dell'Evocatore. Perché dovermi curare in corsia se posso tranquillamente tornare in base a curarmi e poi teletrasportarmi in corsia? Letteralmente sì. Non c'era veramente un zero senso, zero logica. E quindi? Ora puoi sfoggiare il tuo livello dell'Evocatore ai bordi sugli standardi nelle lobby di gioco. Ok. What? Non sono sicuro di capire ma va bene. Penso che... Hai in mente tutte quelle menate tipo bordino dell'honor? Sì. Eh, si vede nella lobby. Ah, ok. Figo, immagino. Quando giochi con un gruppo combinato, stato di ogni giocatore visualizzato sopra, gioca di nuovo. Ok. BRB bagno è la nota. Va bene. 10 su 10. I giocatori non vengono bloccati da tirare custom. Oh, che bel bug fix questo. E i giocatori ora possono di nuovo creare partite personalizzate se hanno disertato la selezione campione. Meno male. Meno male. Non ci sono altri bug fix in questa patch? What? No. Ok. D'accordo. Riot. Ci sono un paio di bug che mi piacerebbe risolvere. Vabbè. Prossima patch. Prossima patch. Speriamo. Speriamo. Aspetti che romano in arrivo. Mecha Aurelion Sol, Braum Mafioso, Luling Catrice Cosmica, Xinzao Difensore Cosmica e Asher Gia Cosmica. Allora. Hanno delle Splashart. Brom è Instashop. Brom è God Tear. Brom è letteralmente God Tear come skin sia in gioco che la Splash che tutto. Si Instashop quella, ok? Sì. Quella non si discute neanche. No, quella vabbè, non si discute. Sono quelle cosmiche che non so cos'hanno. Non hanno nulla di cosmico. Cioè voglio dire, Lulu, Ash e Xinzao. Non lo so. Non lo so. Ecco, sembra un design forzato. Sto guardando le croma. È che l'idea non è neanche malvagia di per sé. È lo schema di colori che è troppo forte in contrasto a confronto con la Splashart. La Splashart sono colori scuri, sono colori forti. Sono pochi colori, mentre invece ci sono una tonnellata di colore all'interno del... Eh, vabbè. Tra l'altro vorrei farti notare una cosa. Sì. Dato che oggi io e te abbiamo ricevuto da un grosso regalo. Quale? Vai da parte di Mama Blizzard. Sì, giustamente. No, vai a vedere la Splashart di Xinzao. Ok. Aspetta un attimo. È letteralmente la guardia di Stormwind. Sì, in effetti sì. E il mio gatto di Tato sta facendo danni con i cavi. Va bene, quello mi sembra anche giusto. No, 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 gatto, sta buono. Zio, zio, oddio, non spegnere il computer. Non spegnere il computer! Fermo! No, perché ogni volta ha la fissa di premere il tasto per spegnere il PC. Beh, vabbè, non ho parole. Solo tutti i nomisticati. Bastardo di un gatto. Stai buono te là sopra. Eh, niente, questo è quanto. Paccia abbastanza tranquilla. Sì. Ci sono dei buff di categoria grossi ai tank che torneranno in meta. E questo è quanto, ragazzi. Torneranno tanti tank in meta. Sì. Ci sono meno danni overall sulla mappa. Molti tank sono stati buffati. Sono tristissimo che abbiano annullato il buff a Maokai. Ero ansioso di rigiocarlo in giungla e invece hanno rimosso il buff. Piango per questo, però vabbè. Eh, bb. Eh, bb. Questo è quanto. Rimaniamo ansiosi di vedere Nunu, rimaniamo ansiosi di vedere le nuove skin Mezzogiorno di Fuoco. Eeeh, Nunu. Io voglio Nunu. Voglio...